In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi, se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonali. E se commetterà una colpa sette volte al giorno, contro di te, e sette volte ritornerà a te dicendo, sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sdradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Fortissima e drammatica l'immagine di chi deve essere gettato in mare con al collo una macina da mulino. Nell'immaginario collettivo odierno, colui che scandalizza i piccoli è probabilmente il pedofilo. Di cui facilmente concludiamo che anche Gesù è d'accordo nel punire severamente tali persone. È proprio così? O è solo così? La riflessione di Gesù è semplicemente per chi commette abusi sessuali verso i piccoli? O c'è qualcos'altro? Non dimentichiamo che subito dopo, nel Vangelo Gesù parla di perdono incondizionato. Il sette volte indica un numero illimitato, cioè bisogna perdonare sempre chi si pente. Quindi a questo punto pare tornare indietro rispetto alla sentenza accusatoria precedente. Allora anche i pedofili devono essere perdonati? O forse Gesù intende dire qualcosa anche per coloro che si reputano giusti e giudicano senza pietà? In effetti lo scandalizzare non può essere solo di chi commette un peccato, ma anche di chi non sa educare i piccoli. Il fatto educativo presuppone sì un'esemplare testimonianza di vita, ma anche un insegnamento oggettivo. Mi spiego meglio. A volte facciamo i ben pensanti, puntiamo il dito su chi uccide, ruba, mandi figli all'emosinare, stupra, abusa, ed è giusto scandalizzarsi di tali comportamenti. Ma abbiamo mai provato a guardarci allo specchio e a capire quante volte noi per primi abbiamo scandalizzato questi piccoli? Ogni volta che abbiamo condannato il prossimo davanti ai nostri piccoli, magari dipingendoli come mostri disumani, abbiamo comunque commesso anche noi uno scandalo di fronte a loro. Se non sappiamo insegnare ai nostri piccoli la differenza tra peccatore e peccato, tra la persona e il suo errore, certamente in qualche modo creiamo uno scandalo, cioè qualcosa che non combacia con il Vangelo. Sentivo una trasmissione di Rai 3, Uomini e Profeti, dove una regista teatrale, Chiara Guidi, che fa teatro con i bambini, ammoniva i genitori che non sanno narrare le verità della vita ai figli. Spesso gli buttano addosso le loro paure e dipingono la realtà per come loro la vedono e non per com'è. Concludo lasciando proprio alcune battute della trasmissione. Questa è la responsabilità dell'adulto, raccontare al bambino. Ma ad esempio, vi faccio un esempio molto semplice, io racconto al bambino la storia della zecca. La zecca è un animale incredibile, è sorda, cieca, per nutrirsi ha bisogno del sangue di una vittima, attende anche 18 anni senza cibo pur di giungere al luogo giusto per mangiare. Ma è fantastico, è un animale meraviglioso. Non posso raccontare al bambino la zecca, mettendo dentro la zecca la mia paura della zecca.